Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono io Blackpushed05, poi da poco ho modificato il nome del canale Questo gioco si chiama Frag 2020, è stato installato da poco sul Play Store e sull'App Store Io ho già fatto una piccola provettina prima, prima quando ero in video lezioni con i professori Non mi hanno visto perché c'avevo la fotocamera disattivata Mi raccomando, non disattivate la fotocamera Ma cavolo, cavolo ragazzi è fighissimo, è figo Non giuro, poi vi lascio il gioco qui sotto in descrizione Sempre se volete il gioco in descrizione Eh, io non ho capito che da oggi fa Guarda, togliete le scatole Eh, altre offerte Ce n'è una a 110 euro, ormai non sono così scemo Ragazzi non scioppate mai perché vi possono fregare i soldi Andiamo qua, cosa dobbiamo pigliare Andiamo su Club Andiamoci a questo, andiamoci Viva la Sara Sara Cariello Andiamo su Frag, combatti Andiamoci a questo, andiamoci a questo Andiamoci a questo, andiamoci a questo madonna come ti chiedi come ti chiedi mia non mi scassare ma vaffa culo vai via vai via vai via non mi toccare ma ci sono no 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 non mi toccare non mi toccare 870 vai picchiamolo picchiamolo non mi toccare non mi toccare non mi ha visto non mi ha visto questo botto ragazzi no no va via vai via vai via no 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 non mi toccare non mi toccare con quella pistola con il coronavirus no no ma io uso lui in difesa no ragazzi ci andando attaccando no ragazzi no ragazzi vai via vai via vai via vai via la gittuata nevica ti ammazza mamato no ragazzi come cazzo faccio e vaffa culo parco due attacco due vai no ragazzi l'ultima colpa è mia l'ultima colpa è mia vaffa culo vai mi ha vinto la partita è finita la prima partita del giorno in diretta con voi vai ragazzi mi tocca qui per mostrarla la prima partita del giorno ragazzi ci vediamo insieme se un giorno che ci sarà ho tre da sbloccare seguici su instagram a me ragazzi ora poi vi lascerò anche qui in su qui nella descrizione il mio profilo instagram questa è la mia questa cosa la censura tranquilli mi chiamo ybushan dopo che ho caricato i preannunci e degli speciali quindi ritorniamo su freg ad esempio se non c'è lui fa rifare la intro ragazzi scusate per i mochi ma poi questa parte la taglio faccio censored il colo mi fa male mi dico una cosa ragazzi perché io da telefono non posso caricare i video su youtube non so perché ma non me lo fa caricare da telefono posso tanto iscrivermi e guardare i video come faccio di solito e guardare guardare levo toglie una missione magica vita mamma mia lo tocco fan base invita va bene lo invito no non voglio invitarlo dai ho taggito attendo a casa messaggi andiamo su messaggi andiamo a vedere chi c'è toglie un'emissione raccoglie fan base una e qua ma mamma mia un'epica ragazzi non va con l'argento no no ragazzi vado a cambiare la cosa migliore per 5 monete migliora livello 2 vai con 4 di frame ma chi se ne frega ho iniziato da poco questo gioco del cavolo no l'epica la metto al posto di lui e poi lui lo metto al posto di lei tanto pescava anche lei non so frega ne va a provare sotto lui noi cercare altri 5 potenti no 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 non mi toccare non mi ha toccato non mi ha toccato tragedia che non mi ha toccato ragazzi mi sembra aiuto qua ma come cavolo faccio a non prenderlo no non mi ha toccato non mi ha toccato che ti ha fatto proprio vaffanculo ragazzi è una kill cazzo oh mi fa un culo ma solo perchè sono il pugnocco della squadra ma bocca a mamma è stato di vita ragazzi mi serve un medikit c'è proprio qua eh però i danni ce li ho tolti mi serve una difesa qua no non mi ha toccato che ti ha toccato ma 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 ragazzi è la volta io proprio schifo mamma mia ehm mi difesa non è che avrà non è non è non è non è non è ragazzi tanto abbiamo vinto dai mamma la partita è finita no raga troppo fatto song troppo fatto vabbè io vi risulturo ragazzi buona buon pranzo a tutti quanti ciao ragazzi grazie grazie grazie